Con una cerimonia pubblica al Teatro Mercadante sono stati assegnati i riconoscimenti ai vincitori del Premio Napoli 2012. La competizione letteraria articolata in sei sezioni si fonda sul doppio meccanismo dei comitati di lettura e di una giuria tecnica presieduta da Gabriele Frasca e composta fra gli altri da Alberto Abruzzese, Franco Buffoni, Milo De Angelis, Paolo Fabri. Per la narrativa ha vinto La cospirazione delle colombe di Vincenzo Latronico, un romanzo che si interroga sull'etica dei rapporti umani in epoca di crisi globale. Per la poesia l'opera Turbativa d'incanto di Yolanda Insana, una raccolta di raffinata complessità linguistica attraversata da un'intensa passione civile. Il concept del premio di quest'anno, la valorizzazione delle biblioteche, la valorizzazione della partecipazione giovanile degli studenti, delle scuole, è una direzione intrapresa, pensata anche molto insieme, insomma, in questa forma al comune di Napoli, ma soprattutto con l'intenzione di estenderla sempre di più. Per la saggistica è stato scelto Crisi, conflitto e incertezza di Giorgio Lunghini, che racconta il fallimento storico delle teorie economiche neoclassiche. Per la traduzione è l'ambizioso lavoro di Enrico Terrinoni, che ha modernizzato l'Ulisse di Giois. Diffondere la cultura di questa città e di questa regione altrove. Parlo di cultura, non necessariamente di mercato editoriale. Munire le nostre biblioteche municipali di dieci copie per ogni volume, di modo che qualsiasi cittadino, chiunque, può andare a ritirare le coppie che concorrono per i singoli settori e votare. Nella sezione di scrittura per bambini e per ragazzi ha vinto la fiaba Bruno, di Nadia Terranova e Ofra Amit, racconto fantastico sul valore della diversità e sull'immortalità del talento. E infine, fra gli ibridi letterari, il premio è andato a Piccola Cucina Cannibale, di Lello Voce, Frank Nemola e Claudio Calia, fantasioso melange di poesia, musica e disegno.